Oggi grande risposta della città di Palermo e dei cittadini palermitani, sin dalle prime ore dell'alba in modo assolutamente composto e ordinato, le macchine si sono posizionate al drive-in che abbiamo fatto con assoluta serenità, è andato tutto benissimo secondo i piani, alle ore 9 abbiamo iniziato così come da copione il primo tampone, siamo già arrivati quasi a 500 tamponi ed è un esempio di come l'effetto sinergico della collaborazione tra istituzioni quando funziona bene è perfetto, la collaborazione tra l'assessorato alla salute, la città metropolitana di Palermo, il comune di Palermo, l'ASP, la protezione civile, ha determinato un effetto sinergico per cui tutto è andato e sta andando per il meglio, abbiamo evidenziato già fino adesso, circa una ventina di soggetti positivi, questo significa che li stiamo togliendo alla libera circolazione, li stiamo sottraendo ai loro luoghi di lavoro, li stiamo togliendo, isolando anche dalle loro famiglie, è come se noi oggi avessimo recuperato quasi un reparto di ospedale, isolare queste persone è per noi fondamentale perché è l'unica strategia o le pochissime cose che possiamo fare per combattere questa epidemia, isolare il sintomatico positivo perché il positivo che non ha sintomi è un soggetto pericoloso perché non avendo sintomi va in giro, quindi esce, va nel proprio luogo di lavoro, frequenta i propri amici, ma molto spesso questi sono soggetti addirittura cosiddetti super infettanti, sono il super speed, per cui averli trovati, averli isolati è per noi motivo di grande soddisfazione. Il modello funziona, oggi lo abbiamo riservato al personale della scuola seguendo una precisa indicazione dell'assessore che vuole avere un occhio particolare sulla scuola, quindi oggi abbiamo esaminato il personale docente, i dirigenti scolastici, il personale ATA, congiuneremo anche domani e dopodomani, probabilmente, ma devo ancora sentire l'assessore su questo, il prossimo step potrebbero essere gli studenti che potrebbero venire al drive in accompagnati dai genitori e sarebbe l'occasione per poter tamponare anche i genitori.